Siamo con Giovanni Matera, imprenditore, titolare della Matera Redamenti, ma in questa sede ci stiamo confrontando con lui per parlare di marketing, per parlare di formazione e stiamo analizzando la cassetta degli attrezzi, la sua pubblicazione e uno dei capitoli è Cambio di Paradigma. Paradigma è una parola che ha un'origine greca, paradigma era il modello e qui è necessario, lo comprenderemo subito immediatamente non appena leggerò queste frasi, molto spesso dobbiamo abbattere certi stereotipi, certi modelli sbagliati, certi preconcetti sbagliati e aprirci, aprire la mente, infatti leggiamo nella cassetta degli attrezzi, nel nostro cervello abbiamo una porta particolare, non ha maniglia all'esterno, la mente come il paracadute se non si apre ti vai a schiantare, penso che questo paragone sia significativo proprio ad indicare che a un certo punto devi cambiare registro, devi cambiare paradigma, modello e quindi devi aprire la mente, se non si apre questo paracadute tu finisci male. Qua devo spezzare una lancia anche a favore di tutti noi, me compreso, noi ereditiamo alcuni concetti, man mano che noi cresciamo il software ha già incamerato una serie di azioni, di modi di dire, di paradigma, di credenze soprattutto che ci sono stati inculcati dall'ambiente circostante, dai nostri genitori, dall'ambiente in cui viviamo. Sai una credenza, come si forma una credenza? è come immaginiamo noi un filo, ripeto quella credenza e aggiungo un altro filo, ripeto quella credenza, lo sento da un'altra parte, aggiungo un altro filo a quella credenza, fino a quando diventa una corda che sarà difficile poi spezzarla e quindi ecco perché si fa difficoltà a cambiare paradigma, perché negli anni questi filamenti sono diventati delle corde e quindi bisogna cambiare, come cambiare? Per esempio partecipando a dei corsi formativi, tu hai dei concetti nuovi nella tua testa e potresti andare a sostituire quei vecchi paradigmi, quel vecchio modo di pensare, come? La ripetizione di nuovo, se io avendo capito un nuovo paradigma che sono di sicuro che è più vincente degli altri, lo vado a ripetere, se lo ripeto per una trentina di giorni e comunque faccio quell'azione per più volte, vado piano piano a mettere da parte quella vecchia azione, quella vecchia credenza e come lo puoi fare? Partecipando ai corsi formativi, leggendo libri, approvvigionandoci di nuova conoscenza tutti i giorni e piano piano andiamo a seppellire quelle vecchie conoscenze, quelli vecchi paradigmi che magari ci tenevano in quella zona di comfort, la zona di comfort è quell'ambiente dove sappiamo che dobbiamo uscire però non usciamo C'è una resistenza al cambiamento La resistenza al cambiamento, sappiamo che è giusto che noi uscissimo da questa, però c'è un dato emotivo da pagare perché il nuovo comunque fa pausa e quindi è come un tunnel che invece di uscire da quel tunnel Invece magari uno dice sto più comodo in quel nido in cui sono… Eh ci mettiamo pure le tendine perché ci stiamo bene Fa paura l'orizzonte, il cielo aperto, molta gente preferisce rimanere chiusa, rintanata nel suo guscio Le persone di successo escono a quella zona di comfort Grazie a tutti